Siamo in onda? Buonasera amici miei ben ritrovati con il consueto appuntamento del mio show casaringo il titolo lo sappiamo hashtag io show a casa e sì dopo il grandissimo successo dell'altro mio spettacolo in streaming anche questa sera le vere protagoniste saranno le barzellette sì amici sì perché sorridere in questi giorni fa bene e basta siamo tutti un po stressati sia coppie che single sapete io abito in un bellissimo condominio e stando a casa mia ne sento veramente di tutti i colori oggi parlavo a Balcone Balcone con Vincenzo un ragazzo che abita qua vicino a me lui è single e dice sempre Paolino io sono single per scelta io puntualmente rispondito sì Vincenzo tu sei single per scelta di tutte le ragazze che hai contratto nella vita città no eh peccato ma perché non è un cattivo ragazzo sì è un è un po' un presuntuoso uno spaccone diciamo un po' un montato lui non diteglielo ma lui si crede uno sciupa femmine infatti mi dice sempre uè Paolino guarda che sul lavoro tutte le femmine mi stanno dietro per forza Vincenzo guidi gli autobus vabbè per questa quarantena visto che ahimè si sentiva solo ha ordinato su Amazon l'ultimo modello di bambola gonfiabile super realistica pensate che è talmente realistica ma talmente realistica che non gliela dà roba da matti povero Vincenzo e sullo stesso pianerotto lo vive la signora Graziella poverina poverina tutti i giorni è in guerra con il figlio per fare i compiti è un vero sumaron all'odice dice un sumaron eh oggi sentivo Giovanni quanto fu quanti furono i re di Roma sette e chi fu l'ultimo il settimo mamma poi ancora eh Giovanni perché il mare è salato eh perché ci sono le acciughe mamma Giovanni dimmi almeno l'infinito di leopardi è leopardare mamma mia che asino che asino che asimo nel condominio abita anche da molti anni eh la professoressa Caccamo un insegnante di musica pensate che prima di questa quarantena adesso ve la racconto gli suonano la porta dream sì chi è buongiorno professoressa sono l'accordatore del pianoforte ma ma io non l'ho chiamato lo so infatti mi hanno chiamato i suoi vicini poverina poverina e poi abita anche il signor Pompeo pensate 85 anni non ce la fa più non ce la fa più con questa quarantena e tutto il giorno lì buttato sul terrazzo proprio davanti a me infatti oggi faccio un po' un po' di chiacchiere in compagnia per tirargli un po' sul morale infatti mi dicevo cavo paolino quando ero giovane avevo due passioni sì la caccia e le donne sì e cosa cacciava le donne ma no paolino io sono sempre stato è un cacciatore di leoni pensa che una volta ero nella savana ad un certo punto da dietro il cespuglio esce il leone faccio ma scusi signor Pompeo non vorrei fare ma il leone non fa fa mi fa sì paolino se esce con il muso una volta invece mi sono trovato faccia a faccia con il leone lui mi guardava io guardavo lui lui guardava me e io guardavo lui una testa così una cosa così ad un certo punto mi fa mi sono cagato addosso ti credo immagino lo spavento trovarsi davanti un bestione simile fa ma no paolino ora mi sono cagato addosso mentre facevo il verso del leone che robe che robe pensa che una volta mi ha raccontato che lui e un suo amico sono stati catturati da una tribù di cannibali ma no non sono vita brutta salvi per miracolo mi ha detto per miracolo mi ha raccontato che lui e suo amico erano già in questo grosso pentolone per essere mangiati ma a un certo punto suo amico inizia a ridere ma ridere di gusto anche gli fa scusami ma siamo qui in un pentolone tra poco i cannibali ci mangiano e tu ridi mi piacerebbe sapere il motivo è l'amico perché ho già pisciato due volte nel brodo ragazzi 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 però fatemi salutare anche l'altro mio vicino di casa fausto è ciao falto il mio vicino di casa abbiamo giardino confinante mi segue sempre anche perché che ore sono a quest'ora la moglie è già nel mondo dei sogni questa però ve la devo dire di fausto questa no 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 ve la devo dire oggi era chinato a strappare l'erba no in giardino mi scappa l'occhio e faccio scusa fausto ma ma da quanto tempo porti il verizoma mi fa e mi fa da quanto tempo da quando mia moglie ne ha trovato uno nella macchina gli ho detto che era il mio robe da madre eh sì altri personaggi strambi all'interno del condominio sono loro la famiglia esposito napoletani pensate moglie marito e cinque figli poverini non hanno nemmeno la macchina e accompagnano a scuola i figli lo so è brutto il motorino sì avete capito bene il motorino pensate la scena papà mamma e cinque figli sul motorino un robe de galera una volta l'ha fermato il vigile fa signore esposito pazienza che voi non usate il casco ma cavoli almeno usate i preservativi e porca miseria va bene dai chiacchiere e condomini a parte vogliamo iniziare con le barzellette iniziamo dai allora vi ricordo che ovviamente non posso leggere i vostri messaggi ma come dire mi farebbe piacere riceverli e quindi mi raccomando voi mandate i messaggi perché dopo la diretta li andrò a leggere molto volentieri e poi visto che siamo in me distanti e quindi non riesco a sentire le vostre risate non riesco a sentire i vostri applausi facciamo così la solita regola se volete fare un applauso mi fate il pollicione quello azzurro con un bel like un bel mi piace e per una bella risata mandiamo anzi mandatemi un bel cuoricino va bene allora dai per questa puntata ho deciso di raggruppare in categoria queste barzellette infatti iniziamo con una delle mie preferite che è la categoria marito e moglie siete pronti o questa pensate l'ho raccontata all'assai l'ultima nel 2008 mi ha portato tanta fortuna e chi mi conosce sa che ogni sera la eseguo nelle mie serate perché a parte che sono innamorato di questa barzelletta eh la volete sapere so che siete curiosi siete curiosi lo so lo so dai ve la racconto allora venezia cinquantesimo anniversario di nozze il marito guarda la moglie fa gina gina ti ha visto un tuo purtano venezia gina ti ricordi gina sono stati qua cinquant'anni fa per il nostro viaggio di nozze la moglie eh mi ricordo gina per far della sorpresa ti ho portato nello stesso albergo e nella stessa stanza di cinquant'anni fa però gina adesso che siamo qui dobbiamo fare quello che mi ha fatto cinquant'anni fa e la moglie oh cosa credi di fare fa pervertito ma no gina ti ricordi cosa abbiamo fatto la prima sera abbiamo fatto la trasgressione abbiamo mangiato completamente nudi la moglie accetta si spogliano completamente nudi ordinano la stessa pietanza di cinquant'anni prima una bella minestra in brodo e si mettono lì biotti nudi uno davanti all'altro che iniziano a mangiare a un certo punto la moglie fa ivo sarà l'aria di venezia sarà l'albergo sarà revival ma a me mi sale un calore dal cuore non so cos'è il marito gina guarda che c'è le tette nella minestra e poi continuiamo il marito che va dalla moglie fa cara cara se imparassi a cucinare una volta per tutte potremmo licenziare la cuoca e risparmiare un po non credi e la moglie si se invece tu impari a fare bene sesso potremmo licenziare il giardiniere non credi il marito tornando a casa dal lavoro trova la moglie a letto con un nano infurriato inizia ma amore cavoli dai ma scusami e quando ti ho trovato a letto con quell'architetto alto biondo magro e ti ho perdonata anche quella volta che ti ho trovata con un muratore bergamasco tarchiato anche lì ti ho perdonata ma adesso amore dai con un nano e la moglie ma caro sto smettendo gradualmente una giovane coppia appena sposata decide di fare un patto d'amore ecco quindi una ogni volta che uno di loro tradirà non dovranno confessarlo ma mettere un chicco di riso in una scatola e tenerlo conservato arrivati a 80 anni la coppia cosa fa decide di sapere quante volte sono stati traditi uno dall'altro infatti inizia il marito e fa ecco qui amore mio due chicchi di riso eh sì sì purtroppo durante il matrimonio ti ho tradita due volte eh sì sono stati dei piccoli peccati dai amore ora tocca a te la moglie apre la scatola e il marito rimane come dire stupito perché nella scatola ci sono solo tre chicchi di riso oh e il marito in lacrime fa grazie cara oh sono fiero di te penso sospettato tutta una vita e adesso guarda guarda io che ho cacciato tutta la mia vita tutta la mia cattiveria adesso in fondo vedo che mi hai tradito solo due volte perché ci sono tre chicchi di riso e la moglie ehi fa tre volte con tutti i risotti che ti ho cucinato in questi anni ah un'altra bellissima marito e moglie è sempre la classica coppia la domenica pomeriggio si sa il marito è davanti a guardare la partita davanti alla televisione e la moglie in cucina che stira guardando la d'urso poverina a un certo punto la moglie non ce la fa più ah gliela fa più dal marito che fa senti un po ne oh senti un po dobbiamo dare uno spritz a questa vita oh malena tutti questi anni sempre qua io te te io te io te me te io te io te io oh so stufa io ne ah de ma dico ma non so il marito ma cos'è che vuoi fare non so portami allo zoo e il marito no se ti vogliono vedere vengono a casa loro il caffone di un caffone guarda cosa ti credi di essere portami allo zoo e il marito no portami allo zoo e la moglie riesce a convincere il marito dai dai andiamo allo zoo se ti ruppi più le balle arrivano allo zoo ci sono tantissimi animali e c'è l'elefante c'è la giraffa la zebra ma a un certo punto arrivano davanti alla gabbia del gorilla l'avete mai visto il gorilla un bestione enorme una bestia e come me più peloso una roba e il marito fa ma porco ma che bel bestione oh che bel bestione che è la moglie si la evita pensa fa che ho sentito dal piero angela quello lì della televisione che il gorilla ha gli stessi impulsi sessuali dell'essere umano il marito ma si l'ho visto io la televisione ma te sei sicura di sono sicura si fa dai gina ascolta siamo qua io e te facci vedere la spalla al gorilla che voglio vedere cosa fai fa ma sei matto dai passa qualcuno cosa crede ma si dai siamo qua io e te ma chi ci vede dai fammi sto favore voglio vedere se lì il pierangelo quello lì c'ha ragione la moglie un po' per curiosità un po' per accontentare il marito accetta si toglie la spallina il marito dai dai gina dai tiro il gorilla la moglie ma sei matto dai passa un bambino ma si dai siamo qua io e te dai c'è nessuno dai facci vedere la coscia gorilla su ma sei ma dai su uno roba le balle dai la moglie un po' per curiosità e un po' per raccontentare il marito e gli fa vedere la coscia e il gorilla porca vacca che bestione dai gina dai gina dai facci vedere le tette al gorilla dai ma no facci vedere le tette al gorilla ma siamo qua io e te ma no ma dai andiamo a vedere l'ippopoto ma che è l'ippopoto sta qua facci vedere le tette al gorilla ma dai ma se passa qua ma siamo qui io e te facci vedere queste tette la moglie un po' per curiosità un po' per raccontentare il marito tac fa vedere le tette al gorilla il gorilla sempre più bestione si batte i pugni sul petto marito fa gina dai gina gina abbiamo fatto hai fatto 30 fai 31 dai facci vedere fatela vedere il gorilla ma no ma sei mad ma ti non dirò neanche faccela vedere il gorilla dai siamo qua io e te ma tu sei ma ma fagela vedere il gorilla dai siamo qua io e te la moglie un po' per curiosità un po' per raccontentare il marito spam gliela fa vedere il gorilla a un certo punto il gorilla spacca la gabbia prende la donna e la porta dentro il marito e adesso digli al gorilla che c'è il mal di testa un grande classico quella del gorilla come mi piace come mi piace un'altra categoria sempre presente nelle barzellette è dal dottore credetemi ce ne sono veramente tante ed è stato difficile come dire recuperare le più belle però dai siamo pronti dal dottore allora una volta queste erano le barzellette quelle come dire quelle più raccontate quelle più sfruttate vado siete pronti mettetevi lì e dal dottore una donna va dal medico e dice oh dottore oh dottore mio marito non mi basta più non mi basta più non mi basta più signora me lo dice a me si faccia un amante ma dottore ne ho già tre o quattro diamanti e cosa devo fare ma ce le faccio io non ce la faccio più io non ce la faccio più mamma mia dottore guarda ma se non gli basta nemmeno quello signora non so ma cos'è che oh se il signor in me non mi basta più voglio un uomo ogni uomo che vedo io lo voglio ogni uomo che vedo io lo voglio ma signora signora ma lei è proprio malata giusto dottore me lo mette per iscritto che sono malata perché mio marito dice che sono una zoccola mi dica signor rossi quando vi siete accorti di avere la diarrea e il vecchietto eh quando ho tolto le mutande dottore 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 mia moglie è convinta di essere me va bene me la porti qui ma dottore sono già andati a lei tra dottori sai ti dirò ho in cura una paziente molto giovane che sta perdendo la memoria cosa mi consigli di fare e l'altro ah di farti pagare in anticipo una donna entra saltellando dal dottore dottore mi scusi dottore mi scusi cosa c'è signora oh dottore mi può accorciare la spirale questo fa ridere anche a me dottoressa dottoressa ho un'erezione continua giorno e notte 24 ore al giorno mi può dare qualcosa e la dottorezza ha avvitto alloggio mille euro al mese di più non posso eh dottore dottore vorrei poter vivere fino a 100 anni va bene allora vediamo lei fuma? no beve? no fa sesso? no ma scusi allora per quale ragione vuole vivere fino a 100 anni? ah là dai queste erano le barzellette dal dottore però le mie preferite sono le freddure quelle come dire velocissime quelle che amava tanto il grande Gino Bramieri allora facciamo così io ne dico una via l'altra non vi preoccupate perché intanto dopo la diretta il video lo troverete sempre sulla mia pagina e così ve le potete imparare a memoria così giorno dopo non potete raccontarle a vostri amici perché dovete stare in casa ma però telefonate fate una sera di sapere ma Paolino mi ha raccontato la barzelletta e le ha raccontate ai vostri amici va bene via con le barzellette veloci due amici al bar oh e due anni che non parlo con mia moglie e l'altro cavoli avete divorziato no no è che non voglio interromperla tre amiche oh mio figlio somiglia tutto al padre e l'amica beh ma anche un pochino tuo maritone due amici si affrontano si affrontano faccia a faccia e uno fa l'altro ho saputo che hai dormito con mia moglie è vero e l'altro eh magari non mi ha fatto chiudere occhi tutta la notte due amiche al bar oh cosa ti ha regalato tuo marito per Natale un cazzo un fareste a cambio col mio fulare amici sapete come si chiama quella donna che sa perfettamente dove si trova suo marito ogni notte no vedova eh sì due prostitute giocano a tennis e una dice all'altra eh chi batte l'altro oh ma basta parlare di lavoro beh un tizio incontra un vampiro con una pagnotta di pane sotto il braccio fa scusi signor vampiro ma dove va con quella pagnotta sotto il braccio il vampiro giù all'angolo e hanno fatto un incidente vado fuori dalla scarpetta tra amiche scusami eh scusami eh tra amici ma perché quando ti gratti la testa senza toglierti il cappello fa come hai migrato la testa senza togliermi il cappello ma perché ma perché scusa quando tu quando ti gratti le balle ti togli i pantaloni eh una donna bruttissima va a confessarsi padre padre se faccio sesso è un peccato il prete ma che peccato è un miracolo sempre nel confessionale oh padre oh padre quando vedo un uomo sento un gran pruritto giovane vecchio vestito bene vestito male ricco povero oh basta che sia un uomo io sento pruritto quanti anni avete figliuola mh 73 vai a casa e curati l'orticaria cretina due serpenti stanno passeggiando insieme a zig zag zig zag i serpenti vanno così zig zag a un certo punto vedono il loro amico serpente che gli passa davanti che va dritto va no zig zag va dritto l'altro fa ma cosa ma come mai va così dritto e fa eh lascia stare a quell'ora qui è sempre ubriaco a teatro la moglie fa il marito guarda oh guarda che figura quello vicino a te sta dormendo e il marito cara ma tu mi svegli per queste stupidate fra amici come è stata tua moglie l'hanno operata sì sì l'hanno operata sì pensa che l'hanno dovuto addormentare due volte due volte come mai eh la prima quando l'hanno operata e la seconda per farla smettere di raccontare l'operazione sposini amore dimmi che mi ami e dimmi che mi hai sposato anche se non ho i soldi la villa panfili non ho la ferrari come Marcello e la ragazza ma certo caro ma dimmi un po' ma chi è Marcello marito e moglie invitano degli amici in casa per una festa Maria Maria scusami ma perché hai messo nell'armadio tutti gli ombrelli hai paura che te li rubano no no ho paura che li riconoscano una signora al mercato passeggia con una gallina sotto il braccio un uomo si avvicina e le chiede eh signora me la dà per 10 euro la signora certo se c'è qualcuno che mi tiene la gallina due vecchietti sono seduti all'aeroporto di Malpensa eh sì senti un po' Pepino Pepino senti un po' Pepino ma 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 secondo te quanto viaggia quell'aerio lì trecento all'ora ma va Giovanni di più ah vuoi che quattrocento all'ora ma va di più di più cinquecento all'ora ma va di più di più novecento all'ora di più eh sì esagerato adesso vola un uomo davanti al favolissimo pozzo dei desideri lancia una moneta la suocera guarda giù improvvisamente cade dentro il signore oh funziona veramente grazie funziona un uomo viaggia in treno con due bambini quando una donna è curiosita inizia a chiedergli ma che bambini ma che belli ma sono i suoi l'uomo no ah sono i suoi nipotini no sono i figli di un suo amico no guardi signora io sono un rappresentante dei profilattici questi bambini sono due reclami che sto portando in ditta va bene oh due signore della Milano Bene sono in spiaggia improvvisamente dall'acqua esce un uomo di colore completamente nudo e le due signore si guardano una griglia eh bestia che bigolo e il ragazzo di colore eh bigolo bigolo perché è bagnato due carabinieri sei da boh maresciallo ma ha mai letto un libro certo certo gli leggetti rintintin no mi scusi maresciallo voleva dire lessi no no ha puntato me lo ricordo bene era proprio rintintin due signore provano l'esperienza del cinema porno ma sono lì nel buio della sala a un certo punto l'amico ha fatto ti agatam agatam ma questo qua vicino a me si sta masturbando ma si pinuccia è normale stiamo vedendo un film pornografico tu fai finta di niente l'altro eh come faccio a far finta di niente sta usando la mia mano te ecco queste qua erano le barzellette veloci ve ne ho raccontate un po' ma anche perché dopo vi dirò una sorpresa perché prossima settimana ci sarà un altro speciale dedicato alle barzellette li faccio piccolini apposta per quello per non stancarvi ma così ve ne propongo come dire un po' di più durante durante la settimana per alietarvi da questo momento così di stallo psicologico dobbiamo stare tutti in casa facciamolo veramente tutti così con la speranza che tutto possa finire di di travolgere così la nostra vita va bene allora dai allora ho scelto anche un'altra carrellata e l'ho soprannominata le migliori me ne racconto due o tre no così come dire vi do un pizzicotto di di simpatia con le migliori a me piacciono molto e ho cercato di raccoglierle così siete pronti? dai allora il piccolo calogero chiede al papà ma papà papà ma senti un po' ma che significa la parola contemporaneamente e il padre dunque mettiamo il caso che io debbo partire per un lungo viaggio e che per un contattempo devo anticipare il ritorno a casa entro in camera da letto trovo la mamma a letto con un altro uomo in questo caso io figlio mio cosa sarei? e il figlio connuto papà ecco bravo io connuto e tu contemporaneamente figli buttano la maestra a scuola allora ragazzi oggi voglio conoscere i vostri hobby per vedere a quale futuro siete più portati da grandi allora dai Sara tu cosa fai quando torni a casa? allora maestra io quando torno a casa mangio e faccio i compiti poi vado in ufficio con il papà e gioco con il computer e la maestra e questo cosa ti dice? e la bimba mi dice che da grande sarò una brava operatrice tecnica brava Sara brava invece tu Ciro cosa fai quando torni a casa? maestra io quando torno a casa baggio faccio i compiti e poi vado dal donno in pizzeria e lo aiuto a fare le pizze e la maestra e questo cosa ti dice? e il bambino mi dice che da grande sarò un bravissimo vizzaiolo bravo Ciro e tu Paolino cosa fai quando torni a scuola? quando torni a casa la scuola allora io mangio e non faccio assolutissimamente i compiti vado sul terrazzo e al primo che passa sotto col motorino gli sputo in testa e la maestra e questo cosa ti dice? eh andava via la prossima parla di una suora di clausura esce la mattina a buon'ora per andare a raccogliere i funghi le ore passano 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 e la suora non torna preoccupate tutte le sorelle aspettano davanti al portone del convento ad un certo punto si sente bussare pum 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 e la madre superiore grida chi è? e da fuori sono suor Bernarda aprite o velocemente aprono il portone e vedono la suora con tutti gli abiti strappati è tutta spettinata allora la madre superiore preoccupata fa oh signor signor Bernarda ma cos'è successo? e la suora disperata madre stamattina appena uscita ero nel bosco a raccogliere i funghi ad un certo punto mentre ero lì da dietro un cacciatore mi ha preso e mi ha violentato per tre giorni e per tre notti e la madre superiore ma come tre giorni e tre notti? siete uscita stamattina è vero ma domani e dopo domani ci torna ancora beh allora chiudo questa questa nostra puntata con una barzelletta che a me piace molto questa veramente la racconto come dire tutte le sere e strappo sempre dei bei sorrisi mi fa molto piacere allora torniamo un po' indietro nel tempo quando un po' tutto era 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 tabù come ben sapete sapete anche più di me una volta si doveva consumare la prima notte di nozze così dicono però non è come adesso che se esci una sera non te la dà non va già bene allora una volta e l'uomo come dire se la doveva conquistare la donna doveva aspettare il giorno del matrimonio e immaginate questa famiglia di paese all'antica quindi facciamo un bel salto indietro nel tempo con il padre padrone la mamma un po' succube del padre che lo serve e la figlia ingenua cosa succede rimane incinta vada la mamma fa mamma adesso te vai diccelo a tuo papà dimmi che lo dici non ce lo dico io ah ce lo dici te mi interessa no vai diccelo muoviti ma no ma 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 non mi interessa vai diglielo immediatamente a tuo papà va bene vergognati di una vergogna vai diglielo papà è là con i baffoni immaginate il classico padre padrone là che sistema il camino entra la figlia fa papà cosa c'è cosa c'è cosa c'è dimmi cosa papà ti devo dire una roba dimmela c'è bisogno di piange dimmela no papà sono incinta e il papà ah che miseria porca mi te spachi la famiglia disgraziata ad una disgraziata ma si può sapere dove avevi la testa e la figlia sul cofano papà lascia lì dai vergognati ma cosa penserà la gente di noi cosa penserà la gente a un certo punto dalla porta di casa entra un ragazzo in doppio petto elegantissimo vestito bene valafa senta non si agiti non si agiti io sono il ragazzo di sua figlia sì abbiamo commesso un errore però io sarò pronto a rimediare perché la mia famiglia è la famiglia più ricca del paese anzi è la più ricca della Lombardia facciamo così se sua figlia dovesse avere un figlio maschio io intesterò al bambino tutte le fabbriche del papini a 7-8 in Lombardia sì e a voi che siete nonni regalerò non so una casa in montagna se invece dovesse nascere una bella bambina facciamo così io intesto tutti i negozi della mamma in tutta Italia ne ha 47 in tutta Italia e voi che siete nonni regalerò una bella casa in montagna e invece se sono due gemelli facciamo così intesto sia le ditte del papà sia i negozi di abbigliamento della mamma e voi che siete nonni con due gemellini per festeggiare regalerò una casa al mare è una montagna se poi invece sua figlia non dovesse avere figli il papà eh no la Giulia ancora oh allora grazie cari amici anche questa sera ho visto che mi sono arrivati tanti messaggi tanti mi piace così grazie grazie a voi abbiamo passato così una serata un po' diversa ricordatevi che vi voglio bene ricordatevi che bisogna stare in casa e ricordatevi che un giorno senza sorriso è un giorno perso come diceva il grande Charlie Chaplin ciao a tutti vi voglio bene grazie della vostra attenzione e ricordatevi hashtag io show a casa con Paolino Boffi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti